L'hai già preso il caffè? Eh, stavo prendendo adesso, per tirarmi un po' su. Tu? No, stamattina ancora no, perché a parte che lo sai che io mi devo fare con calma, devo scaldare l'acqua, io mi faccio la brodaglia americana per cui mi prendi sempre in giro, quindi no, me lo faccio con più calma dopo. Ma quindi ti piace appunto prenderlo in tranquillità? Ma sì, io non sono uno di quelli che riesce a mettersi lì a prendere il caffè mentre fa altre cose, cioè non ce l'ho a sto gesto di associarlo mentre lavoro, proprio se mi prendo il caffè devo fare questo e basta. Sarebbe interessante parlarne. Dici? Dico. Signore e signori, sportivi e sportive, quando siete già pronti per mangiare o andare a nanna, non mangiate né dormite, sintonizzatevi sulla nuova fantastica, meravigliosa, scientificamente irriverente puntata del LiveX Podcast! Ovviamente ben ritrovati a tutti in questa puntata che sarà dedicata al caffè. Ciao a tutti da Manuel. Ciao a tutti da Vincenzo. Ed eccoci qui in botta da caffeina e se lo siete anche voi cerchiamo di capire come e quando prenderlo senza ammazzarsi di caffè. Beh, oddio, tu stai in botta di caffè, io ancora non l'ho preso, quindi sono assolutamente neutro e bello fresco solo dalla nottata di sonno. Allora, 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 spot, visto che tu ormai sei stato ribattezzato così, per ritornare alle origini. Quindi abbiamo parlato già di caffè in una delle puntate più citate e divertenti che ci è uscita fuori, cioè caffè, caffeina, la mia rovina, che se non avete visto vi invito a recuperare assolutamente. Ascoltato. Io continuo a dire, visto, come se ci vedessimo per me, io ci vediamo alla prossima e per me è tutto un vederci, dai. Ma sì, è giusto. Quindi, se non l'avete vista pubblicata sul sito o sui nostri social, andate a recuperarla. Detto ciò, perché un'altra puntata? Perché spot giustamente ha sollevato un punto nuovo. Qual è questo punto? Gli effetti, più che fisiologici diretti, che sappiamo, la caffeina, bla bla bla, poi magari lo spieghiamo un po' meglio, spiega, vari recettori, eccetera. Quelli comportamentali, cioè sapere, tu ad esempio hai detto, la prendo, prendo il caffè in comodità, come rito quasi. Quindi, perché si fa questa cosa? Sarebbe, appunto, interessante parlarne, come abbiamo detto prima. E questo era il punto di cui parlare. Alla fine, effettivamente, in tantissimi gesti che facciamo quotidianamente, c'è una componente altamente psicologica, no? Nel nostro proprio modo d'essere. Quindi, credo che effettivamente il caffè possa essere interessante da divincolare. Perché è una tradizione lunghissima, in realtà, quando si va a parlare di bevande di questo genere. Dal Sud America, ad esempio, tradizionalmente arriva il mate, la yerba mate, lo yerba mate, anzi. Che è una bevanda simile, per proprietà farmacodinamiche, farmacocinetiche, simile alla caffeina, non uguale, ma simile. Quindi ha un pochino la stessa funzione, la mateina, rispetto a quello che è il nostro caffè. Quindi, per tradizione, una bevanda energizzante ha spesso fatto parte della ritualità. Un po' come poi lo è stato l'aperitivo, da quando è stato inventato a corte. Quindi, una parte di psicologia c'è. La domanda che ci vogliamo porre insieme a voi, mentre ci ascoltate e non mentre ci vedete, è quanto la psicologia del caffè sia rilevante rispetto alla fisiologia? Ecco, dai, vuoi provare tu a dare una risposta? Allora, parto dalla parte nerd, poi arrivo dalla parte anche, diciamo, magari esperienza e opinione, poi perché alla fine si sfocia sempre in opinione su quello che uno vede, osserva, eccetera. Allora, la parte nerd è che effettivamente ci sono vari, ormai vari esperimenti, studi e, diciamo, letteratura, sul fatto che questo, quello che poi si chiama effetto placebo anche, no? Sia parte integrante dell'effetto terapeutico, per dire tutte le sostanze, no? Quindi anche c'è tutta una branca della medicina che, come dire, consiglia proprio ai medici che nel prescrivere le loro terapie sia bene anche, magari, tutta la parte di empatia, di ascolto e di tanto altro, perché fa parte del processo terapeutico stesso, non solo in termini di stare bene, sentirsi bene. Per questo, per differenziare, come dire, il discorso da, per non passare per i santoni, no? Come dicevamo anche con, nel podcast sulla parte della, insomma, del trattamento fasciale, no? È proprio una cosa che va a entrare nella biochimica, cioè ciò che è psicologico ci modifica anche biochimicamente. Quindi, secondo me c'è una forza, un forte impatto. Un forte impatto che nel momento in cui, così forte che nel momento in cui io dico alla persona che sta bevendo caffè senza caffeina, con caffeina, scusate, in realtà è senza caffeina, a mio avviso gli dà lo stesso effetto. Parlo ovviamente di un caffè dove la quantità di caffeina è anche abbastanza bassa che potrebbe non essere così forte l'effetto che si sente. Ovvio che se ci butto dentro, sbriciolo, 400, 500, 600 milligrammi di caffeina in polvere, la differenza si vede e come. Ovviamente non stai parlando di cose fatte o provate, no? No, no, no. Automaticamente, assolutamente no. E quindi penso che sia forte a questo livello, anche sulle osservazioni scientifiche e empiriche mi sembra che sia abbastanza così la cosa. Tu che ne pensi di questo? Allora, da un punto di vista, secondo me da un punto di vista... Allora, riordiniamo, tu mi hai chiesto un parere sulla parte, su quale ambito, sull'ambito più nerd, diciamo? Aspetta, non sul tuo torbone di caffè, perché so che anche quello contiene tanta caffeina, quindi se lo prendessi di caffeinato non avresti lo stesso effetto, diciamo su le persone normali, ecco. Ecco, ecco, allora, diciamo una cosa... Quanto l'effetto rito psicologico fare l'abitudine, cioè fare anche il gesto di bersi il caffè ha impatto rispetto alla sostanza proprio caffeina contenuta? Allora, da un punto di vista prettamente non personale, e quindi cercando di basarsi anche su esperienze raccontate e su quello che... Ricordo che c'è fu anche uno studio proprio su questa cosa, dicevo veramente non sanno più su cosa fare gli studi, la percezione del gesto racchiude in sé una serie di componenti di tipo psicologico tali per cui attivando quelle, in realtà un meccanismo simile lo si stimola ugualmente. E' vero, magari sulla componente specifica del sonno, quindi quello che riguarda l'accumulo dell'adenosina sui recettori cerebrali, e quindi l'effetto antisonno specifico della caffeina, non avremmo quell'effetto. Ma, da un punto di vista magari del boost serotoninergico, quindi quella botta di buon umore che ci arriva dal consumare un caffè che per noi è un gesto di pausa, magari prenderlo con amici, quindi la gioia di fare una pausa chiacchierando, scherzando, ridendo. Quindi lì c'è una stimolazione che, se non vado errato, è adrenergica, in maniera molto lieve e positiva, quindi un circuito di appagamento che va comunque a tenerci più svegli. Perciò non agiamo direttamente sul centro sonnoveglia, ma agiamo sui centri del buon umore. Una cosa un pochino diversa, ma l'effetto è similare. E questo ovviamente può verificarsi anche con un decaffeinato. Tanto più che, come diciamo nella puntata dedicata al caffè, parlare di chi prende 10.000 caffè ancora come efficace non ha proprio senso. Si sviluppa una suefazione, una dipendenza vera e propria, quindi non è che il caffè diventa qualcosa che funziona nel tenerci svegli, diventa necessario per non avere mal di testa praticamente. Quindi sì, per me il rito psicologico ha veramente molta, molta importanza. Non saprei dire se quasi di più. Mi spingerei fino a quasi più che la parte veramente specificamente biochimica, sai? Qui farei un altro inciso da nerd. Esiste una disciplina di cui mi piacerebbe parlare in una prossima puntata, per chi non ha mai sentito parlare, che per me è stata una sorta di svolta incredibile. Chi mi conosce sa che sono spesso alla ricerca di qualcosa di nuovo, anche tu, Spot, me lo dici sempre. Spesso ne discutiamo, siamo alla ricerca di qualcosa di nuovo nell'ambito della nutrizione, che non sia mangia meno, deficit calorico, finito. La gastrofisica o neurogastronomia. Una disciplina che a me ha veramente fatto esaltare. Cambiare il sapore della percezione e la percezione del sapore allo stesso tempo mediante la modifica di fattori esterni, come il colore delle pareti, la forma del piatto, il peso delle posate, la forma del bicchiere, la musica di sottofondo, la stimolazione visiva della tovaglia e dei tovaglioli. Quindi, siamo in grado di alterare un qualcosa che potrebbe essere percepito come oggettivo. Attenzione, il sapore è oggettivo perché oggettive sono le molecole che vanno ad essere stimolate sulle papille gustative. Cioè, un qualcosa che l'amaro è dato dalla molecola X o dalla molecola Y, senza perderci anche nei nomi, quelle sono obiettivamente così. Cioè, un cibo è obiettivamente amaro. Poi, la percezione, quindi, se mi piace o non mi piace, è qualcosa di soggettivo. Però, quanto è bello sapere che un... Quanto è interessante sapere che una bistecca è più saporita se servita su un piatto triangolare? Quanto è interessante per me, ovviamente, poi per qualcuno sarà noiosissimo, sapere che un vino servito... Un vino rosso servito in un bicchiere rosso risulta più aromatizzato, più forte di sapore. Quindi, alla luce di questo, solo come piccola parentesi, quanto potrebbe essere interessante sapere che un caffè ha molto di più al suo interno rispetto alla semplice tazzina? Punto di domanda? Molto interessante, almeno dal mio punto di vista. Questa cosa, poi, del sapore, percezione, eccetera... Qui e là l'ho toccata perché mi interessa molto quanto, appunto, tutto ciò che è estrinseco, sia tu hai citato varie cose del momento, quindi l'ambiente, il piatto, il colore, le temperature anche dei cibi o dell'ambiente stesso e ci sono ovviamente anche cose di tradizione e culturali che ci creano tutta l'architettura cerebrale che ci fa percepire le cose in un certo modo. Motivo per cui la carne di squalo putrefatta a noi può sembrare una schiettezza e c'è chi la ama, nel senso, oppure il sangue di mucca unito al latte di mucca acido in alcune popolazioni è una prelibatezza e per noi magari a noi farebbe venire i conati. E questo, ritornando poi al caffè, secondo me fa tanta differenza a livello anche biologico perché se riusciamo così tanto a modificare la percezione di quello che assaporiamo probabilmente riusciamo a farlo anche con sostanze, cioè con la percezione che quelle sostanze ci danno, quindi la percezione che ci attivano. Come hai detto tu, col caffè il fatto stesso che facciamo un rito ci dà una certa gratificazione. In questo però c'è un aspetto, diciamo l'altro lato della medaglia, è quello di sembrare che passiamo per quelli attenzione qui che rischiamo il linciaggio che dicono che dicono si può fare a meno del caffè. Allora, è vero, cioè si potrebbe fare a meno, io direi si potrebbe fare a meno del caffè, però mi dico anche ma perché? Cioè, nel senso, fino a che uno ne consuma tre, quattro tazzine al giorno e lo fa anche per gusto con gusto, non perché sta lì che ne è dipendente, cioè che sta lì e dice oh Dio, devo prendere il mio caffè. Io mi viene anche a dire perché toglierla quella cosa se è stabile nel suo, diciamo, equilibrio dinamico, ok? Quindi, volevo specificare questa cosa prima che ci rincino, ci facciano chiudere il podcast perché no, questi dicono che il caffè non va bevuto in Italia poi è abbastanza pericoloso. Però questa è una cosa di cui forse dovremmo parlare. Cioè, tu che ne pensi di coloro, quelli che per forza dicono no, devi togliere tutto il caffè quando magari una persona ne sta prendendo i suoi due, tre, insomma, moderatamente ne sta prendendo due, tre al giorno o ha il suo momento in cui prende il caffè e si sta mantenendo nel suo, diciamo, equilibrio dinamico così. Cioè, va bene, per me andrebbe bene così però molti invece sono più per dire puoi farne a meno, toglilo. Tu che ne pensi su questo? Eh, io sono nel partito che ogni tanto andrebbe fatto quindi mi sono immaginato di dire questa cosa e poi di sentire all'Omer Simpson i piedi che scappano tu 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 e poi la porta che sbatte. Io sono tendenzialmente per questa detossificazione periodica perché posto che ci ricordiamo facciamo un super riassunto in una frase esistono metabolizzatori lenti e metabolizzatori veloci di caffeina e questo cambia tutto nella gestione di questa sostanza. Detto ciò da un punto di vista strettamente pratico se vado parliamo parliamo di esperienze due o tre caffè comunque creano una sorta di assuefazione se ripetuti nel tempo se ripetuti nel tempo quindi due o tre caffè al giorno per tanti giorni per x giorni di fila. Questa cosa si può creare può creare dei problemi ma non problemi reali nel senso problemi a livello di assuefazione non sto parlando di problemi di salute. fare un piccolo periodo di stop dalla caffeina una settimana due settimane porta poi a riprovare il caffè e a sentirne l'effetto reale quindi c'è un qualcosa di completamente a livello percettivo secondo me è importante fargli degli stop periodici dall'assunzione di caffè perché quando lo si ribeve la prima volta la sensazione è meravigliosa perché dici ok ah ecco vedi era questo che faceva la caffeina era questo il sentirmi sveglio che mi faceva all'inizio che poi è una bellissima sensazione non è una brutta sensazione quindi per me degli stop periodici io sono ecco io sono un fautore dello stop periodico non so tu se ti posizioneresti così così positivamente oppure no allora per quello ho fatto molto la differenza sulla dose cioè per certi versi per me le due tre tazzine si creano quella assuefazione che come dire a un certo punto io ritengo una assuefazione come una cosa che è un livello di base ok cioè come quelle tante perché ne facciamo tante attività che facciamo non perfettamente in linea con noi stessi o con un certo obiettivo che però un po' ammettiamo a noi stessi ok anche mi direi banalmente spippolare al telefono non è un'attività che ti porta realmente qualcosa o anzi magari a volte ti toglie qualcosa se sei la sera e sei agli occhi stanchi però magari lo fai perché ci fa bene è quel momento lasciami fare no c'è un po' quella cosa che ci diciamo quando poi vabbè no finché si parla di stop periodici sì io parlavo proprio di c'è proprio una parte di professionisti o di persone che promuovono certe cose che andrebbero proprio a eliminarlo totalmente per sempre ok lo stop periodico sì perché no anzi è qualcosa che mette anche un po' alla prova no dice vabbè fammi vedere se riesco a fare questa cosa uno ogni tanto fa anche questo tipo di prove la domanda è lo faresti così se vogliamo appunto distillare un consiglio per chi magari beve quei due tre fino a quattro cinque diciamo così potrebbero essere ammissibili sempre se fatti con consapevolezza lo faresti sostituendo cioè mantenendo il gesto quindi caffè decaffeinato non mi ammazzino i puritani però vabbè ora ci sono i caffè decaffeinati stanno cominciando ad essere un po' più buoni rispetto a prima vero per chi proprio è fortemente sostenito del gusto del caffè serio lo faresti appunto sostituendo tenendo il gesto e sostituendo la sostanza quindi decaffeinato oppure caffè d'orzo oppure altro oppure elimineresti del tutto bisogna no in realtà non me l'aspettavo questa domanda in realtà posta in questo modo il silenzio è stato spaventoso infatti eh no perché in realtà ci ho dovuto riflettere ci ho dovuto riflettere perché in realtà no non ha senso se uno lo valuta da un punto di vista psicologico non ha senso lo stop totale perché il mio era puramente un rapporto biologico quindi ti direi che secondo me uno stop periodico andrebbe più che altro si può sostituire l'effetto di sostituzione è comunque positivo quindi sì ti direi guarda secondo me uno stop periodico ha sicuramente molto senso però la sostituzione infatti quello che consiglio poi mi ero bloccato anche per questo perché mi sono chiesto ma tu che cacchio consiglia le persone effettivamente e dico di sostituire con un orzo con un decaffeinato fin tanto che poi si riprende il caffè la prima volta e dici oh caspita questo era l'effetto così dovevo sentirmi quindi sì per me la sostituzione del gesto con un con un gesto uguale ma la bevanda diversa capace ma allora ti rifaccio io una domanda quando parliamo cioè allora quando parliamo di bere il caffè no all'inizio hai visto che nella scenetta iniziale ti ho detto una cosa che poi in realtà è vera per me io non riesco o meglio non voglio bere il caffè mentre sto facendo un podcast mentre sto studiando non mi aiuta mi dà fastidio per chi probabilmente tende a cercare di essere il più focalizzato possibile su una task per volta su un compito per volta fare altre cose è quasi un disturbo e perché un gesto deve essere un disturbo per me visto il valore del gesto secondo me da un punto di vista pratico se uno lo fa mentre sta chiacchierando con i colleghi in posa pranzo o sta con gli amici che io là dentro ti ci metto il caffè di cicoria certo magari che uno è forte troppo forte come gusto un caffè decaffeinato buono o un orzo io non credo che uno stia lì a percepire moltissimo il sapore cioè ci sto riflettendo in questo momento ma se uno se fa un gesto ti aggiungo una cosa nel senso perché quasi non concepisci no magari berlo mentre uno fa qualcos'altro ti dico la mia no e poi secondo me qua arriva anche la bellezza delle diversità sono sicuro che molti altri cioè ognuno di noi beva poi il caffè per motivi differenti e magari chiedendo chiedendo va a a scoprire perché lo fa davvero per me ad esempio se lo bevo mentre faccio qualcosa non è una seconda attività che faccio è come se adesso sembro davvero un dipendente dal caffè è come se però mi facesse compagnia ok come se sta lì a farmi una carezza capito mentre io faccio altro oh ma che carino chiusa parentesi che carino che 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 spiegazione tenera hai visto allora sì probabilmente infatti la 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 precisazione che feci era proprio che dipende dal dal tipo di persona che sei io non ci riesco e il caffè mi piace gustarlo in autonomia cioè facendo solo ed esclusivamente quello poi ripeto probabilmente per qualcuno può essere anche il contrario cioè un gesto che ti dà un piccolo momento di pausa in un momento lavorativo quindi può essere una sorta di di stacco da quello che stai facendo questo è assolutamente comprensibile quindi il valore in pratica stiamo tornando girando intorno al valore psicologico del gesto sì praticamente sì e difatti l'altra cosa che diciamo altra domanda così magari abbiamo i due grandi consigli utili no nel senso che uno aveva detto ogni tanto pausa se uno prende caffè con buon senso cioè tre massimo quattro aveva detto arriviamo fino a cinque massimo massimo ogni tanto fare una pausa quindi diciamo ogni ogni paio di mesi può andare bene fare una pausa di dieci dodici giorni con dei sostituti quindi caffè d'orzo caffè degraffenato caffè insomma che non apporti la sostanza caffeina dall'altro lato cosa cosa possiamo dire cioè se uno sta cominciando a bere otto dieci dodici quindici ci sono c'è c'è chi ne prende quindici al giorno di caffè o di momenti che ha momenti per il caffè perché poi il caffè appunto ce ne sono di milioni di tipi differenti cosa possiamo andare a dire io ho una mia diciamo piccola strategia però magari vorrei sentire anche prima la tua poi aggiungo anche la mia beh io per chi ne usa così tanti francamente io consiglio proprio di io consiglio proprio quello che abbiamo appena detto di diminuire la soglia prima di tutto mi concentro sulle principalmente sulle diciamo sulla sull'orario quindi dico tutti quelli che vanno dopo le due se possibile sostituiscimeli e fammeli diventare decaffeinati orzo quello che è insomma questo è tendenzialmente il mio tipo di approccio cerco di sostituire dalle 14 in poi per quel ritmo circadiano di cui abbiamo parlato nell'ultima puntata e di cui accennamo anche a livello teorico nelle prime puntate del podcast quindi quelli che vanno dopo le 14 cerco di sostituirli poi dopo dipende da quanto la persona voglia andare in fondo alla tana del bianconiglio perché io tendo sempre a dire ti ricordi che effetto ti faceva il caffè all'inizio adesso è dipendenza ma ti ricordi che era bello perché poi è bello però c'è il caffè sembriamo due drogati però è proprio una bella sostanza da un punto di vista di effetto perché ha un e attenzione la caffeina non è il caffè attenzione questa è una cosa importantissima proprio in virtù del gesto quasi tra l'altro mettiamolo in maniera quasi profetica si è sentito una sorta di schiocco di tazzina dal tuo studio quindi penso che esattamente si è sentito proprio il suono del bar di una tazzina che schioccava il caffè non è la caffeina la natura spesso ci mette a disposizione dei composti di sostanze molto complessi tutt'altro che elementari e quindi prendere un caffè non è uguale a prendere la caffeina questo per la cinetica di assorbimento perché la caffeina nel caffè viene assorbita più lentamente perché nel caffè ci sono molte molte altre molecole non è solo non parliamo solo di delle xantine quindi ci sono è molto più complesso di così e quindi prendere il il caffè per gli effetti che ha sull'umore sul sistema nervoso su in generale è proprio una bella sostanza che va sfruttata che merita di essere sfruttata come il tè che ha moltissimi benefici per la nostra salute quindi periodicamente dipende del paziente che mi dice sto male mi sento stanchissimo io propongo un reset da caffeina perché l'effetto di esaurimento del surrenale e cerebrale causato da un abuso di caffeina che fa il suono che io ripeto sempre il motore in prima a tavoletta schiacciato a tavoletta quel suono di motore proprio tirato all'osso è lo stesso suono che fa il nostro corpo sotto moltissimi caffè al giorno quindi io propongo sempre un reset di caffè per capire poi quando è quella soglia in cui effettivamente ne traiamo beneficio e c'è un appunto io so che tu vuoi dire un'altra cosa ma facciamo una parentesi quali sono gli effetti cioè quello che viene così definito washout quindi lo stop dell'assunzione della caffeina se uno mi dice c'ho mal di testa io che gli rispondo è normale o no quali sono gli effetti spot mal di testa di sicuro cioè proprio è la prima cosa ma arriva anche secondo me questo è anche molto effetto al contrario del placebo nocebo cioè il momento in cui mi sono messo in testa di togliere il caffè anche dopo cioè mezz'ora dopo ho già mal di testa anche se non avrei se non era il momento di prendere il caffè in quel momento è normale si può tamponare allora io mi facevo sia su me stesso sia magari quando consigliavo appunto di ridurre un po' può davvero bastare sentire è ovvio che poi come dire metti il drogato di fronte a una piccola dose è un bel casino però ad esempio dico quello che facevo io quando ad esempio staccavo un po' il caffè andavo magari al bar che l'espresso è ancora meno caffeina quando passa velocemente dalla insomma dalla macchina lo facevo fare cortissimo cioè dicevo davvero al barista guarda deve essere uno sputo è solo sporcare la tazza quindi veniva fuori mezzo cucchiaino di caffè praticamente non scherzo proprio una cosa proprio una cosa appeditosa pagavo un euro per questa roba vabbè e quella quella cosa lì davvero poteva bastare proprio perché secondo me qui c'è molta trama psicologica molto questo legame con questa con tutta tutto il caffè non solo appunto la caffeina ma il gusto e tutto il resto e bastava sentire appunto bagnarsi la lingua che già passava quel mal di testa lì vabbè uno potrebbe usare se ha disponibilità non dico economiche ma di tempo di modo cioè a casa eccetera pochi grammi di amminoacidi e catena ramificata o della tirosina poi tirosina in che dosaggi per averne un effetto significativo 3-4 grammi non dico non dico i 10-15 grammi che provavo io 3-4 grammi possono bastare per sostituire quel quel caffè poi quello è il più frequente poi magari uno è proprio irrequieto inizia a sudare freddo ma quelle cose un po' vanno vanno vissute è proprio crisi d'astinenza pura che poco si può fare non so tu come la vedi ma se uno vuole fare questa cosa un minimo di impegno ce lo teme 3-3 no ma per forza poi la crisi da caffeina è brutta c'è una roba una roba brutta io mi rendo conto quando l'ho fatto quando l'ho vissuta questa cosa perché poi la mia prima crisi d'astinenza da caffeina si verificò all'università quando il primo il primo anno cominciai a svegliarmi alle 5 poi chi ci ha ascoltato in altri ambiti in altri settori sa che io ho sempre avuto un po' di problemi col sonno quindi svegliandomi prestissimo io stavo sempre molto molto stanco durante la giornata oltretutto le bellezze di stare a Roma o meglio poco fuori Roma per arrivare in università dovevo prendere tre treni la situazione era veramente poco controllabile c'era una situazione veramente veramente pesante e mi ricordo che vedi in erbolisteria questo multi power go ancora me lo ricordo una roba del genere si chiamava che era venduto come tonico io insomma mi ricordo la prima volta che l'ho preso la mattina madonna quanto stavo bene la mattina alle 5 in quarto io mi ricordo che ho preparato un esame dalle 5 in quarto alle 8 e mezza che stavo sui treni ho preparato un esame in quel mese che ho preso quell'integratore poi mi dopo un po' ma te dici prendi le cose senza manco sapere sì di base è la storia della mia vita praticamente e sì effettivamente lì c'erano 200 mg di caffeina più ginseng più le altre varie cose quando me ne accorsi perché mi lessi l'etichetta decisi di fermarmi perché comunque era un effetto palesemente innaturale che dormissi tre ore a notte e fossi un fatto di cocaina no di la verità che ti sei fermato e hai letto l'etichetta quando il barattolo era finito quando il barattolo era quasi finito esatto che ho preso adesso sembravo il coniglio pazzo di alice nel paese delle meraviglie la lepre mazzorina anzi e niente l'interruzione fu drammatica mal di testa che non passava né con l'occhi né con il moment sensazione di nausea perenne sonno incredibile insomma una crisi da stilenza vera e propria eccolo di nuovo quindi questo è proprio l'incitamento a bere caffè esatto questo è devo dire che per evitare questi sintomi o anche per fare esperienza e capire se il proprio corpo è assuefatto alla caffeina quindi avere i maggiori benefici da un punto di vista psichico e fisiologico dal caffè secondo me uno stop periodico va fatto questo direi che possa essere un messaggio di chiusura ecco per me sono d'accordo e sono d'accordo anche a farlo però molto diretto certo cioè piuttosto che fare magari se vuoi smentisci anche questa cosa ho messo alla fine giusto per non farmi smentire allora posso allora sto zitto dopo vai no se io sto prendendo tanti caffè cominciare a scalarli sì sì è una cosa che è da fare cioè nove per un altro tempo otto per un altro tempo però ci vuole veramente tantissimo forse è meglio passare fare in tronco c'è dieci cinque poi due poi zero per due settimane e poi magari tornare a tutti più normali a funzioni più normali sì 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 sono assolutamente allora devo dire questo dipende molto dal carattere della persona perché secondo me da un punto di vista pratico per me pure per come sono fatto io si passa da dieci a zero subito però ovviamente non tutti possono approcciarsi così per questo io di solito tendo a togliere tutti quelli che stanno dopo le 14 pure se sono altri 7 li tolgo tutti poi dopo ci lavoriamo sul resto ci lavoriamo in maniera più calma però sì quindi facciamo il riassunto della puntata il caffè ha un valore estremamente importante anche da un punto da un punto di vista psicologico ha sempre fatto parte della tradizione una bevanda tonico energetica ma il valore psicologico si consuma anche nell'utilizzarlo con amici nella pausa dal lavoro quindi cerchiamo di non usarlo come una scusa ricordandoci che è una sostanza molto importante molto potente per il nostro corpo la sostituzione con altre sostanze analoghe potrebbe portare benefici uguali e se non li porta probabilmente dobbiamo capire qual è il nostro grado di assuefazione a questa sostanza non so se mi sono perso qualcosa che dici? no penso che hai riassunto tutto ok quindi il momento della propaganda come al solito se volete supportarci condividete la nostra questa puntata sui vostri canali social inviateci commenti se volete un qualche argomento che possa essere trattato anche per curiosità a breve parleremo di qualcosa di un po' più mainstream come anzi no non lo dico lo lasciamo lo lasciamo in maniera sospesa quindi per oggi è tutto anche per oggi è tutto ci sentiamo alla prossima puntata ciao a tutti da Manuel e ci vediamo per un caffè ciao a tutti da Vincenzo ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti